11 neolareandi nel corso di economia aziendale per il distaccamento di Brindisi dell'Università di Bari. Un momento particolarmente significativo che consolida la presenza del territorio dell'Università barese e la collaborazione delle istituzioni brindisine, come dimostrato dalla presenza nella suggestiva Sala della Colonna di Palazzo Nervegna anche del Sindaco Giuseppe Marchionna e del Direttore di Confindustria Angelo Guarini. La sede di Brindisi per noi rappresenta un punto di incontro centrale tra cultura e opportunità tra università e professione per un percorso condiviso di conoscenza e di esperienza quindi sicuramente un augurio ai laureandi alle famiglie che li hanno sostenuti però sicuramente anche un ringraziamento ai docenti di questo corso di studi. Il nostro Dipartimento, che si chiama di Economia, Management e Diritto dell'Impresa sono ormai più di vent'anni che è attivo sulla offerta formativa anche presso la sede di Brindisi e quindi siamo sempre molto contenti quando riusciamo a portare a termine il percorso dei nostri laureati. È veramente un piacere vedere tanti ragazzi che oggi acquisiscono la laurea la laurea in Economia e in Scienze Economiche è molto importante perché poi l'industria si basa soprattutto sul concetto di economia ma anche sul concetto di innovazione che non è soltanto innovazione tecnologica, innovazione organizzativa, innovazione nei metodi di lavoro quindi di tutto questo il nostro comparto industriale ha assolutamente bisogno.